Uno contro uno quest'oggi cara mia, uno contro uno Allora, io avevo aperto qualche giorno fa su Discord la discussione, la chat dove i consolini possono proporre delle idee Ok Perché volevo vedere un pochettino quali idee avevano e che cosa avremmo potuto fare nella metà parco giochi e nei server privati Ok Praticamente chiunque diceva fate dei castelli, una a testa e vi affrontate stando ognuno nel proprio castello Quindi ho un pochettino evoluto questa idea Ho pensato, facciamo ok un castello a testa e possiamo però fightare soltanto con gli esplosivi Vince chi ammazza tre volte l'altro, ok? Ok, quindi tre kill devi fare E tu non puoi riparare il tuo castello, quindi se io decido che invece che cercare di killarti Inizialmente distruggo il castello, tu poi sarai con molte meno difese nel castello e sarà molto più facile ucciderti E beh è una tecnica anche quella, bisogna vedere un pochettino come giocarti Così ognuno decide come fare Ovviamente Fere, vale lanciamissili, vale RPG, vale granate, vale tutto quello che si può lanciare Facciamo che valgono anche le granate quelle puzzolenti Perché sinceramente alla fine hanno lo stesso, no No beh certo, sempre comunque fanno danno e danno fastidio Allora io sto gironzolando un pochettino Non è entrato nulla Niente Ma neanche una granata Stef, neanche una granata brutta Lo so, lo so, lo so, stessa cosa Fere Non mi stupisci per niente perché va anche a me così, ci vorrà un po' di tempo Però Fere, una cosa, male che vada, ti inizi a cercare un po' di lama e secondo me risolvi Ah sì Nel senso, non troverai magari lanciamissili Eh ma io voglio, tipo lanciagranate, voglio fare scena, capito? Non solo tu Altrimenti che guerra sui castelli sarebbe Stef? Lo so, infatti anche io sto giocando quella, anche perché secondo me vince chi ha trovato Oh, tre granate, è già qualcosa, è già qualcosa Ovviamente non farmiamo materiali per ora perché tanto puoi clicchi due volte Ah beh, guarda, io senza volerlo li ho farmati, rompi due muri e sei già pieno quindi Ok, ovviamente puoi scegliere tu anche quanti spazi concederti nelle difese, quindi in shield e cura Fatti tuoi, tattica tua, fatti tuoi No beh, per ora sto trovando solo shieldini e medikit, guarda, ironico, ma ho trovato solo di quelli Ovviamente anche qualche arma che non ho preso perché abbiamo detto che non ho preso Io manco shieldini, cara Solo gli esplosivi, no io vedi che sono anche Eccoli, grazie Dicevo sì, mi vedi, no che non mi vedi Eh, ho lo shield pieno Ok Ne ho trovati davvero tanti Allora, mi sa shieldone trovato, perfetto, così ho risolto anche io in ambito di cure e di cose varie Però, dai, un bel RPG, non chiedo molto, un bel RPG In ogni caso sai cosa facciamo? Ci equipaggiamo un po', riprendiamo a commentare quando dobbiamo costruire il castello Ok Ok E poi si riprende a commentare quando era rifaitare Certo Perché qua altrimenti il video dura, sai quanto? 55 minuti Vogliamo un video di 55 minuti? Sì Non lo vogliamo Alcuni direbbero disti davvero Appunto, quindi sì Comunque ci vediamo dopo Ci abbiamo messo un bel po', ma secondo me siamo praticamente pronti Eh sì Allora, il castello fatelo un po', come cavolo ti pare No, voglio fare un castello io Eh, fai come cavolo vuoi Io faccio una robettina Allora, aspetta, aspetta Devo decidere Devo decidere No, sono un po' indecisa È un po' indecisa È un po' indecisa Ok Ah, questa è la torre Ok Ok Io sto facendo una roba carina almeno Ok Ma quanto grande? Ma quello che... Cioè, quanto ti stai allargando tu? Così Il mio è molto piccolo Dai, sì, no? Anch'io pensavo qualcosa di... Relativamente piccolo Perché altrimenti devo andare poi a riprendere altri materiali Non ho più voglia Voglio combattere Esatto Esattamente Ok Ho fatto lo stesso identico ragionamento Opla, opla, opla Opla A qua io ci voglio fare le torri Ok Addirittura? Sì Mi piace Vabbè, torri È un parolone? Sì Cioè, non voglio adesso perderci due ore e mezzo a costruirlo bene Voglio fare sì una cosa carina, ma... Senza esagerare, insomma Allora, qui Cala Ok Torre Io credo che ci sono Nel senso Questo è il massimo Adesso sistema a livello estetico Capito cosa intendo E direi che sono pronto Allora, non mi conviene sicuramente fare finestre Perché tu hai lanciagranate E quindi tu con il lanciagranate finisci solo che mi fai entrare nelle finestre delle granate E sei solo avvantaggiato Capisci? Ok, sì Non è una bella cosa Ci sta Allora Opla, opla, opla Ok Ah, guarda le mie torri, Steph Ah, però... Vabbè, dai, per farlo un modify Ok Eh, anche le mie sono carine Ma cavolo, le ho fatte troppo alte, però Ma ne devo fare... Ascolta, forse ne faccio due Non sono sicura di volerne fare quattro Ti dico la verità Io ho finito giusto, 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 giusto i mattoncini Quindi sono andato perfetto L'unica errore, raga, è qua, che mi tocca fare un modify, è un po' scomodo, però, vabbè, mi ci arrangio, secondo me Fare, ma... Eh Cioè, io ho finito il castello e te stai ancora così? Ah, sì Perché ve li fa quattro torri invece che due? No, ne faccio due, adesso poi vado a chiudere dietro, dai Ok, ok, mi tocca aspettare un po' Eh, non rompere, dai Eh, certo che rompo Comunque, allora, non abbiamo detto gli arsenali Ok Esatto Fare ha un RPG Io ho il lancia granate Che mi ha dato fare perché ha trovato entrambi, io non ho trovato nessun'arma, raga Però è stato anche molto gentile, ricordate Esatto, che comunque puoi tenere un tot di missile e alla fine non si faceva nulla di averle entrambe Quindi è stato gentile per quel motivo Poi fare ha nove granate normali, tre puzzolenti, tre medikit e dieci scillini, quindi ha tanta roba per curarsi Io invece ho optato per solo gli scillini e di avere diciotto clinger, che faranno male, cara, te lo dico già E tre granate normali Ok, allora Perché sono povero? Te l'ho detto, Stef Due torri Due torri? Ma io poi volevo fare il castello bene, fare le cose strascenografiche, invece tu Cioè, il giro fa schifo il tuo Oh Piano con le parole Vabbè, vabbè Verremo con le farà più schifo tra poco quando esploderanno Ok? Allora, eh, penso di tappare così, credo Ok Ma tu sei più alto, maledetto, no? Allora vado ad un altro muro più in alto Cioè, io l'ammazzo, raga Pensate alla nermi di Evo, che dice all'altro regno No, no, fermi, fermi, il mio castello è troppo basso Datemi un anno Ci puoi contare Che lo alzo e poi tornate a conquistare, va bene? Ci puoi contare Poi non vi truccido, però Allora, ho fatto anche certe parti in legno, soprattutto Perché sei povera No, perché altrimenti sarei dovuta andare anche a riprendere i mattoncini Secondo me non è che ho molto voglia Che vada, provi un po' nenti il tuo castello Ne lo so, grazie Prego Allora, qui tappiamo Non è male, non è male Prego, non mi far finire Facciamolo in legno Ok No, penso che basti così alla fine Ma io dove devo stare nella parte alta? Dove vuoi? No, stanno nella torre Questi distruggo Scusa, Steph, una piccola modifica Non puoi lasciarli Tanti esplodono tra poco, Ferre No, no, no Ti giuro Te li faccio esplodere subito Se partiamo Ma conviene tappare Cosa? Conviene tappare un pochettino Perché se no mi fai esplodere tutto So che non è bello esteticamente, ma Ok Ma la gioco così Va bene Aspetta, guarda qua Ti faccio, Steph I tocchetti di classe Le torri le ho praticamente sommerse Non è servita a niente Ok Giuro su Dio Che ti sto per tirare una Klinger sulla testa E andare 1-0 Vai, Steph Sono pronta Sei pronta? Ma come dobbiamo giocarcela? Aspetta Tiri esplodivi e devi uccidermi Non puoi buildare mai più Ok Quindi da questo istante in poi Tu non puoi buildare Puoi solo modificare Non so soddisfatta però Speriamo bene Ok Ok Ci sono Dobbiamo fare un countdown Oppure chi parte parte? Vai, quando vuoi Vado Oh cavolo Però se tira un missile Ma allora Ti devo anche uccidere, giusto? Dove anche puntare a ucciderti Beh, l'obiettivo è fare il third kill Allora Secondo me Bisogna iniziare a tastare il terreno così Steph Dimmi Ti vedo Cosa vuoi fare? Ok 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 No Che c'è? Niente Era cosa? Era quello Sto cercando di capire dove ti devo far esplodere Che ansia, raga E direi Ci sta distruggendo Ti ho ucciso Cavolo Mi è partita una scala Scusami Però autodifesa Mi è venuta l'ansia Tranquilla Eh, infatti l'ho subito tolta Dai Cavolo Steph Ma è difficilissimo ucciderti Poi c'è da ricordare Che lancia razzi Non ho più che stella Che lancia razzi E lancia granate Nei missili limitati Aiuto 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 Dove è finito il maledetto? Steph Però non ti posso seguire così Cioè che dobbiamo fare? Ok 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 Sto riprendendo posizione Ok Tutto bene? Dai Steph Che devo fare? E che vuoi? Mannaggia se faccio il canestro Ti ho presa? No, non mi hai presa Ora sì Dai ora sì Esplodi Sì Sei un infame però Che vuoi? Sei un infame e basta Che cosa ho fatto? Io ho quasi finito tutto comunque Eh, lo so Ti ravi tutto come una pazza Ho un missile Non ti sei già assorata bene le armi I castelli comunque non hanno retto niente Contro gli esplosivi Beh Fede Se fai soltanto esplosivi Neanche una montagna regge Secondo me Dove cavolo sei? No È sopra Sto scendendo Ok ti sto aspettando Ma cosa rifaccio? Almeno un po' di pavimento? Eh sì Dai Ma non pavimento Per non camminare nell'acqua È perché ci scrive Per forza una superficie piana Esatto E quindi l'agora Perfetto Però in effetti Poi esplode tutto Ci abbiamo anche pensato Speravamo bastasse il ferro Ma no Non c'è nulla Che può contenere gli esplosivi Ok lei Comunque Sto riaggiustando il campo di battaglia Ma dobbiamo stare in acqua Ferro è molto povera Quindi ormai la velogrigia per lei Che poi neanche io Non è che ho grandi cose ormai Però Ma io non ho proprio più granate Cioè le ho finite O le ho perse Che poi si potrebbe considerare Che in effetti In parte vinceva Chi distruggeva il castello altrui Eh Però Oh Oh figliacca Era l'ultimo razzo Steph Non ci potevo fare nulla Ho finito tutto Non trovo più le mie granate Preso Avendo uno scildino Schifoso Lurido Non pensavo Comunque Ho distrutto il tuo castello Quindi ho vinto io No no Non è che siccome me l'ho detto Un attimo No non ho vinto Non funziona così Non torno più Steph Ciao Ti attacco una Klinger Mentre scendi Te lo giuro Non ci riesci Vuoi vedere? Di fatto il mio castello L'hai tanto preso in giro Ma sta ancora in piedi Il tuo dov'è? Prova ad andare lenta Cioè ecco Vai Proprio Esatto Aspetta mi avvicino Mi avvicino Ceri Ceri Oh mio Dio Oh ce l'ho nel piede Ce l'ho nel piede Non venire qua Oh se sei È una bella mira Se sei ben mirato Ce la fai eh Sarebbe bellissima come kill Vabbè Raga la sfida è andata È stata molto esplosiva E distruggente Molto breve Molto breve Molto breve Però ci sta Io non ho usato il lanciagranate Alla fine Perché non hai usato? E boh Conservavo Conservavo Io ho la sindrome Di conservare le cose Capito Per il momento migliore Capito Cattiveria Eh aspetti Le putto giù il razzo Mentre faccio l'outro Quindi niente Ci fermiamo così Speriamo comunque Che il castello Vi siano piaciuti Sono durati poco Però è stata una sfida Uno contro uno Carina Ovviamente raga Come sempre Stiamo pre-registrando Questi video Perché vogliamo Continuare a portarvi Cose particolari Anche dopo che La metà parco giochi Verrà rimossa E quindi niente Questo video è pre-registrato Per quel motivo Qua sotto compariranno Altri video di Fortnite E di altri giochi Le cliccate a campanellina E ci vediamo E che fortuna In un prossimo video Ciao